No, 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 no! Fanzo, ci fermano! Non ci hanno fermato! No, hanno sentito gli altri! Aia, cazzo, è arrivato qualcosa sul casco! Allora, per adesso, a parte giusta tale, mi sembra non ci sia tanta gente in giro, il che è un bene! Esatto! Considerando che, non lo so, che è sabato! Eh, in teoria il sabato ci dovrebbe essere meno gente, perché alcuni lavorano, anche alla domenica, però il sabato è più probabile che si lavori! E' freschina! Sta bene! Tanto ci sono 21.6 gradi, se guardo davanti è anche meglio, però! Questa introduzione tecnologica del termometro sul manubrio, tanta roba, eh! E che tecnologia avanzata! Eh, perché mi domandavo sempre quanti gradi ci fossero, tipo dicevamo, oh, che freddo, chissà quanti gradi ci sono! Eh, non lo sapevamo mai! Da quest'anno lo sapremo! Più delle volte, quando diciamo che è freddo, ci sono tipo 18 gradi, 20 gradi! Eh, ma perché le tute in pelle non è che siano proprio ideali per tenere il caldo! Sì, vero, agosto lo sento, il caldo! Vabbè, sì! Cioè, bello esteticamente, però... Cioè, si sente tutto quello che c'è fuori! Quando fa caldo, senti il caldo, quando fa freddo, senti il freddo! E quando cadi però ti salvi! Sì, speri di non cadere, però, perché con quello che la paghi... Esatto! Speri che rimanga intera il più possibile! Il tipo col GS che saluta, miracolo! Wow! Dopo il tipo col GS che saluta, e il tipo in bici da solo, che sta a lato, mi aspetto qualunque cosa! No, 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 Fanz, ci fermano! Non ci hanno fermato! No, hanno sentito gli altri! Eh, Michele, noi arrivavamo a 50 all'ora, belli tranquilli, dietro in galleria si sentivano gli aerei che volavano! E ovviamente noi ci hanno guardato, ci hanno lasciato passare gli aerei che arrivavano in galleria, subito fermati! Vedete perché bisogna andare in giro piano? Perché poi non vi fermano neanche al posto di blocco! Quanto passate, passate, che tanto! Guarda come pedala! Vuole infrangere la barriera del suono! Una delle cose belle della bici è che quando sei in discesa non fare un cavolo! Che sbattia se devi pedalare anche in discesa! Viga, in discesa vai giù come le skidge! Eh sì, poi con quelle ruotine lì! E il problema è che le curve non è per farle troppo veloce, perché non è la ruota! È vero! Viga, chissà che male! Eh sì, anche perché hanno i pantaloncini nella maglietta, infatti si sgrugnano tutti! Poi chi cade spesso si ritira anche dal giro perché è tutto sgrugnato contro l'asfalto e come fai a correre poi! Eh ma dovrebbero fargli mettere le protezioni! Eh effettivamente sì, dovrebbero! Cioè hanno il caschetto, ma ho capito, ma... Il caschetto sì, diciamo che la prima roba se vedi in terra non è la testa che metti giù, ma i gomiti e le ginocchia e le mani! Sì hanno i guantini, ma capirai cosa fanno quei guanti lì! Eh, è pericoloso come sport se vai per terra! Sì beh, anche il pattinaggio sul ghiaccio! Fica, sfracciali sul ghiaccio! Eh ma il ghiaccio slitti! Lo ho capito, fa male però eh! Vabbè se ci vai giù col culo sicuro! Comunque sotto a un video ci avevano commentato Come fate a guidare parlando è impossibile! Secondo me siete pericolosi! In realtà avere l'interfono è una sicurezza aggiuntiva incredibile perché Chi è davanti può dire a chi dietro se scende qualcuno, com'è la strada, se c'è sporco, se c'è qualunque cosa, lo avvisi! Vabbè chi è davanti, niente, fa da peripista è quello sacrificabile! Quindi la maggior parte delle volte è io! Hanno inventato gli interfoni per comodità, non per essere un pericolo! Ma certo, ma infatti! Ma poi alle incredibili velocità a cui andiamo in giro capirai che distrazione è parlare! Anzi, mi tiene sveglio! A differenza di sentire solo il rumore della moto che dopo un po' mi rimbecillisce! Cioè, lo fa comunque, soprattutto quando fai tante gallerie, scendo che mi rimbomba le orecchie! E comunque siamo arrivati all'Africa! Più che un paesino è un paesone perché è veramente grande, è una cittadina di montagna! L'inverno si scia, le piste non sono il massimo perché non è che siano tantissime però... Questi tedeschi di Germania... Si sarà sparsa la voce che lo stelvio di Anpaga e vogliono venire a vedere se è vero! E non hanno paura del coronavirus, wow! E' perché avranno capito che se ti tieni il casco e vai in moto, non prendi niente! Al massimo puoi prendere il raffreddore se sudi e poi prendi freddo! Ho un po' di mal di gola se ci sono 5 gradi e non hai lo scaldacollo! Ma al di là di quello... Beh, fin qui Aprica deserta completamente! Minchia, sì! Comunque abbiamo tipo questi paesi qua di montagna che sono turistici e non mi piacciono! Eh ma Aprica è molto città, soprattutto se vieni qua d'inverno per sciare c'è una ressa incredibile! Io l'ho vissuta un po' perché aveva la casa Sara e si è veramente affollata sia d'estate che d'inverno! Cioè se vieni qua ad agosto fai la coda per far qualunque cosa e se vieni qua a dicembre fai la coda per far qualunque cosa! Invece se venite a Bema sia ad agosto che a dicembre non fate la coda per far niente! Esatto! Comunque la proloco di Bema dovrebbe darci dei soldi! Abbastanza anche soldi! Prevedo che rimarrà rosso tipo mezz'ora! Potevano sgombrare i parcheggi e farla lì la seconda corsia! Eh ma il parcheggio è blu tu lo paghi e quindi fai rientrare il comune dei soldi! Ah! A meno che fai come quello con la gip che parcheggia sulle strisce pedonali! Giusto! E a quel punto lì prendi la multa e è meglio ancora così paghi di più! Boh! Ma quei... Hanno tutti i motu quali quelli? Chi? Alla multistrada? Sì! Beh uno in GS! Sì vabbè ho capito, sì vabbè ho visto! Vedi così non paghi il parcheggio! Devo cambiare le batterie della Sony perché ce l'abbiamo accesa da Bema! Appena vedo uno spiazzo sul nostro lato mi fermo! Qua lì avanti c'è uno spiazzo! E vai! Ma è l'ombra sotto l'albero! Vai a infugnarti di lì! O sotto quell'albero lì! Mi smorso quella davanti! Ci sono cinque camere vuote quindi spazio c'è! Ciao! Bene ci eravamo fermati per cambiare le batterie e per bere e eravamo qua e siamo abbastanza imboscati comunque perché c'è l'albero davanti c'è per caso perché eravamo all'ombra non è che ci siamo voluti imboscare e... E' passato questo signore che ha guardato nel parcheggio per caso e lui non l'ha salutato perché ha guardato Perché era un KTM e lui tipo ha fatto così come dire ma va a cagare e pensavamo a uno degli haters che abbiamo no? E invece no era un fans che tipo ha detto ma pensa te ed è tornato indietro per salutarci No ma quello che è il bello è che... Sta andando a bema a mangiare! Non lo mangiare! E quindi? E quindi accendi la telecamera che se no non si sente quello che dici Devo accenderla qua davanti? E se tra cento metri ci dobbiamo fermare che devi fare la pipì accendi spegni accendi spegni Pensiamo ad andare che fai la pipì e poi andiamo e cerchiamo di non fermarci più fino all'ancima al gavia Ah dovevo anche pulire la visiera e non l'ho pulita Porca miseria Vabbè quando ci fermiamo che fai la pipì Adesso riprendiamo la discesa dall'aprica Andiamo in direzione Passo del Tonale Ovviamente scendendo dall'aprica si passa dalla Valtellina alla Valca Monica Valca Monica? Pulita Valsugana? Quella è in Valsugana Ah Cosa sarà questo? Te capi Giorgio Devi trovare un punto dove fermarti eh Eh sì lo so Adesso era un po' in mezzo al paese Mi scappa anche un po' la cacca Mmm bello Siamo arrivati al Gavia L'acqua più vuota del solito C'è il sole E c'è la piacevolissima temperatura di 23 gradi e 9 Quindi non male Ciao 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 Grazie.